Ricevuta dai parlamentari Luciano D'Alfonso, Bruno Astorra e Nazario Pagano e dall'onorevole Francesco Rollo Brigida, una delegazione di circa 40 sindaci del Comitato dei Territori ricadenti sulle autostrade A24 e A25, ha manifestato a Roma davanti al Senato contro il caro pedaggio e la sicurezza delle autostrade. Non è bastato al comitato composto da 110 sindaci di Abruzzo e Lazio la sospensione nei giorni scorsi del rincaro pedaggi da parte di Strada dei Parchi, concessionaria dei tratti autostradali A24 e A25. Il problema infatti è solo rimandato di sei mesi, sottolinea Beglia Nazarro, sindaco di Carsoli e coordinatrice del Comitato. Il 1 luglio 2022 è infatti previsto un aumento del 34,5% delle tariffe di pedaggio del collegamento dall'Abruzzo a Roma. Un costo che porterà gravissime conseguenze per i pendolari lavoratori, ma anche per le aziende di trasporto e in generale per l'economia di un territorio che paga a carissimo prezzo una tratta di collegamento quasi obbligata con la capitale. Stiamo tornando da Roma dove siamo stati ricevuti fuori la sede del Senato dai parlamentari della Repubblica Italiana. Da parte loro abbiamo ricevuto l'impegno a sostenere la nostra battaglia contro il caro pedaggio per la sicurezza della A24 e A25 e ci siamo dati appuntamento a dopo le feste. L'autostrada, oltre ad essere una delle più care in Italia, presenta anche un problema di sicurezza ricadendo essa infatti quasi totalmente in un territorio montano e in area sismica. Il Comitato chiede risposte certe e definitive dalla politica che oggi ha rassicurato che dopo le feste troverà una soluzione definitiva.